La Terra come casa di tutti ed il Palasporto di Vicenza come casa comune in cui dare voce e spazio alle religioni del mondo. Si trasferisce da Montecchio al Capoluogo Berico la sesta edizione dell'incontro interreligioso organizzato dal Centro Ecumenico Eugenio IV e dedicato quest'anno al rispetto dell'ambiente. Domenica 23 maggio, per un paio d'ore, dalle 16 alle 18, Sikh, Hindu, musulmani e cristiani uniranno le parole che i rispettivi libri sacri dedicano alla Madre Terra, intrecciando letture religiose e riflessioni alle suggestioni dei gesti e delle voci di danze tradizionali, rappresentazioni teatrali e canti. È lo stile che da sei anni caratterizza questo straordinario incontro interreligioso, partecipato ormai da circa 800 persone e che vuole essere una solida base da cui far germogliare le radici dell'accoglienza e della condivisione. La città è un piccolo mantello di alechino, ogni mosaico, ogni pezza, ogni topa del mantello di alechino è un qualche cosa che dobbiamo ascoltare, ascoltare, guardare, ammirare e questo incontro ha proprio questo scopo, l'incontro, l'ascoltarsi e così forse avremo meno paura l'uno dell'altro. Come comunità islamica è l'unica strada da correre il dialogo. Nella sola città di Vicenza i cittadini stranieri sono ormai poco meno di 18.000 e costituiscono oltre il 15% della popolazione, 180 gli stati rappresentati da questi cittadini per una presenza immigrata che negli ultimi dieci anni è addirittura triplicata. In un contesto così vivace la possibilità di un confronto come quello offerto dall'incontro interreligioso di domenica è sicuramente un'opportunità forte di costruttivo confronto, il punto di partenza per iniziative che nel futuro si vogliono moltiplicare. Questo è il momento centrale, teniamolo, incontriamoci per questo, ma cerchiamo anche di promuovere altre iniziative sul territorio proprio perché se la gente ci vede insieme impara a non considerare le religioni contrapposte ma invece tutte insieme una ricerca di Dio e un servizio al mondo.